Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Parliamo del terzo episodio del crossover dell'Hurroverse, Crisi sulle Terre Infinite, che si colloca precisamente nella stagione 6 di Flash, nell'episodio 9 della stagione 6 di Flash. Quindi l'episodio è molto incentrato su Flash e i suoi comprimari. Prima di cominciare però vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un bel mi piace a questo video e a condividerlo con tutte le persone che conoscete che possono essere interessate a questo argomento. Commentate pure con quello che volete riguardo questo episodio. L'episodio parte con un ennesimo cameo, totalmente gratuito, delle Birds of Prey del telefilm dei primi anni 2000, se non sbaglio. Il telefilm un po' sfortunato che ha avuto una sola stagione e è ambientato nella Terra 203. Era una cosa che nel mio video, quello di settembre, non avevo ruminato perché appunto non c'era questa notizia. C'è un'immagine di Huntress Cacciatrice che viene vaporizzata insieme al resto di Terra 203. Non so se hanno voluto mostrare la vaporizzazione di una Terra con Birds of Prey proprio perché ha avuto una sola stagione, quindi è bruciato in fretta, non lo so. Dopo questo inizio si parte subito nella Wave Rider, nella nave spaziale, nella nave multidimensionale delle Legends, dove vediamo che si apre un portale da uno dei marchingegni di Cisco Ramon e arriva il team Flash su questa nave multidimensionale. Mi riferisco appunto a Flash, mi riferisco a Cisco Ramon e a Killer Frost e a Elongated Man, l'uomo allungabile, ovvero Ralph Dibney. Arrivano tutti in pompa magna, Iris era già sulla Wave Rider. Mi fa piacere, dato che seguo Flash principalmente, che nell'episodio di Flash ci sia tutto il team Flash. Grazie all'arrivo del team Flash e di Cisco Ramon Roy Palmer, che è l'altro geniaccio della combricola, insieme al cervellone di Cisco Ramon riescono a sistemare questa specie di computer che trova i vari campioni. Eravamo rimasti a tre campioni, in realtà quattro campioni, me ne ero dimenticato uno io, adesso ve li dico. I campioni sono i seguenti, c'è il campione del destino, che è Sarah Lance, che è il campione che mi ero dimenticato negli altri video, perdonatemi. Sarah Lance di Legends of Tomorrow, c'è il campione della speranza, che è Supergirl, il campione del coraggio, che è Dopinder di Deadpool, no, scusate, il campione del coraggio è Batwoman, e il campione della verità è il Superman di Terra 96, il Superman di Kingdom Come, quello interpretato da Brandon Root. Oltre a questi quattro campioni, questo detector di campioni trova gli altri tre. Gli altri tre sono più precisamente Martian Manhunter, che è il campione dell'onore, Flash, Barry Allen di Terra 1, che è il campione dell'amore, pensavo fossero così freddi invece Flash, e come ultimo campione c'è Ryan Choi, che è il campione dell'umanità. Chi è Ryan Choi? Mi sono andato a informare. Nei fumetti, Ryan Choi è il secondo a indossare l'armatura di Atom, quindi non so se si prevede che ci sarà un secondo Atom anche in Legends of Tomorrow e Roy Palmer abbandonerà il mantello, oppure è solo una strizzatina d'occhio al fumetto. Fatto sta che questo Ryan Choi, anche nel telefilm, è un grande ammiratore del lavoro di Ray Palmer e anche lui è uno scienziato e sta studiando la fisica delle particelle per il rimpicciolimento. Finalmente, dopo ben tre episodi, meglio questo è il terzo episodio, fanno vedere John Deagle, che nei primi due episodi non si era visto assolutamente, non si sa dov'era, non ci è dato saperlo. Arriva John Deagle, anche lui che è sulla Wave Rider, non si sa perché, ma si sa che appaiono così a caso come Iris nello scorso episodio, è tutto arrabbiato perché appunto Oliver Queen, Arrow, è morto e quindi lui è molto arrabbiato perché non c'era quando lui è morto, anche noi siamo arrabbiati perché lui non c'era nel primo episodio e vuole anche lui contribuire, diciamo, al salvataggio della sua anima, al cercare di riportarlo in vita. Siamo rimasti a Oliver Queen, Arrow, che è tornato in vita con il Pozzo di Lazzaro, ma è ancora in preda alla pazzia che il Pozzo di Lazzaro dona alle persone che resuscita e quindi stanno cercando il modo di recuperare la sua anima perché il rituale fatto da John Constantine nella puntata precedente non è andato a buon fine. Allora John Constantine, John Deagle e Mia Smokes intraprendono un viaggio di nuovo per cercare di ripristinare l'anima di Oliver Queen. In questo caso resta in panchina in tutti i sensi Sarah Lenz che per tutto l'episodio viglia sulle spoglie mortali di Oliver Queen, quindi è totalmente tagliata fuori dall'episodio. Onestamente, dato che c'erano questi sette campioni, avrei preferito che tra questi sette campioni ci fosse anche il John Deagle di Terra 90 che sembrava potesse essere il Green Lantern, la Lanterna Verde di Terra 90. Così non è stato, quindi è apparso John Deagle subito dopo il discorso in cui parlavano dei sette campioni, ma non c'è stato nessun riferimento alla Lanterna Verde. Nel frattempo Cisco Ramon si rende conto che la fonte di energia che genera il muro di antimateria parte proprio da Terra 1, parte proprio da qualcosa nel terreno, che è appunto il luogo dove Nash Wells ha scavato per cercare di smascherare Monitor perché pensava che Monitor fosse appunto un impostore e che questa onda di antimateria fosse tutta una fuffa. In realtà era tutto vero, in realtà era manipolato dall'antimonitor e in realtà il cercare di entrare in questo buco nel terreno ha generato, ha proprio fatto partire il countdown che ha iniziato a distruggere terra dopo terra ed è proprio per questo che Nash Wells ha cessato di esistere come Nash Wells ed ha ricominciato la sua esistenza da penitente come paria. Lo pronuncio in italiano perché paria ha un significato ben preciso, se andate a vedere le caste indiane i paria sono proprio gli ultimi della società. In inglese lo pronunciano paria, quindi non so come lo tradurranno in italiano perché lo sto vedendo in inglese. Il fatto sta che appunto il personaggio di Nash Wells cambia di nuovo perché si sa che in ogni stagione di Flash c'è questo attore che interpreta un Harrison Wells diverso, in questo caso interpreta Paria che è un personaggio che proprio c'è nella saga fumettistica crisi sulle terre infinite e hanno lo stesso scopo sia nel fumetto che nel telefilm, ovvero di apparire come penitenza in prossimità di una tragedia. Nei fumetti Paria appare proprio quando il mondo sta per finire, qui in una misura simile Paria appare quando sta succedendo una tragedia. È apparso alla fine del primo episodio quando Oliver Queen ha espirato, ci ha lasciato le penne ed è apparso adesso. Qual è la tragedia che si sta per consumare? Non si sa ma ha a che fare col fatto che devono entrare tutti in questo buco nel terreno. Paria purtroppo non si ricorda più come ha fatto quando era Nash perché i suoi ricordi sono annebbiati ma fortunatamente Sisko Ramon re di vivo vibe perché monitor gli ha fatto ritornare probabilmente solo per questo crossover i poteri di vibe riesce a toccando Nash Wells a vibrare nella sua esistenza precedente come già fa dalla prima stagione di Flash per capire i ricordi di Nash e ricordarsi la sequenza per entrare come ricordarsi il pin del cellulare fondamentalmente clicca questi simboli in un certo ordine entrano tutti in questo buco nel terreno. Anche in questo episodio appunto ci sono tre storie principali la prima è appunto quella di Flash e del team Flash che entra in questo buco nel terreno la seconda è il proseguo di Supergirl e Batwoman che in qualche modo vogliono far ripristinare terra 38 meglio Supergirl lo vuole Batwoman glielo vuole impedire perché Supergirl vuole usare il libro del destino ma è molto molto pericoloso e Batwoman cerca in tutti i modi di impedirglielo. Questa storia è solo un proseguo di quello che c'è stato già nel secondo nel secondo episodio qui diciamo c'è una conclusione ma non gli si dà molta attenzione rispetto all'episodio precedente. Ci sono comunque dei momenti importanti nel in questo episodio riguardo questa storia che sono appunto il mostrare l'amicizia che si sta consolidando tra Batwoman e Supergirl che ricorda molto l'amicizia che c'è tra Batgirl e Supergirl nel fumetto crisi sulle terre infinite qui nell' Arrowverse Batgirl non c'è c'è Batwoman e quindi diciamo che cercano questo parallelismo oltre al parallelismo dell'amicizia tra Batman e Superman. Qua per esempio si arriva quasi a uno scontro con la criptonite ma ci mostrano subito come le donne sono molto meglio degli uomini che invece di prendersi a cazzotti con la criptonite nei pugni parlano e diciamo appianano le divergenze. La terza storia è appunto la ricerca di questo campione dell'umanità Ryan Choi e questa ricerca la compiono Ralph Dibney, Iris West che è ancora dal secondo episodio che va a reclutare gente e Ray Palmer perché appunto diciamo Ryan Choi ammira tantissimo Ray Palmer quindi fatto sta che questo Brandon Root questa volta nei panni di Ray Palmer di nuovo è in una delle tre storie principali. Si vede invece pochissimo Brandon Root nel ruolo di Superman di Terra 96. Si vede giusto per una comparsata. Piccola parentesi una cosa che non ho detto negli altri video sugli altri episodi perché mi sono concentrato sulla trama e non seguendo Supergirl ne sono rimasto un po' stupito ma mi ha fatto molto piacere vedere l'attore John Cryer che interpreta Lex Luthor. John Cryer è l'attore che ha interpretato il telefilm Due Uomini e Mezzo insieme a Charlie Sheen e francamente vederlo nel ruolo del più grande bastardo dei fumetti dopo anni 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 che lo vedevamo nel ruolo di uno dei due protagonisti quello più sfigato più vessato più fantoziano di Due Uomini e Mezzo mi ha fatto molto piacere vedere che l'attore sa interpretare anche un ruolo totalmente diverso rispetto a quello interpretato per tanti anni. Si scorge ancora un pochino dei suoi tratti caratteristici e il risultato è un Lex Luthor cattivo, viscido, subdolo ma allo stesso tempo con tanti piccoli tic mi ha ricordato anche un pochino il Lex Luthor, quello di Justice League, quello di Jesse Eisenberg che era un po' troppo giovane, aveva tanti difetti però lasciando perdere, mi ha ricordato anche un po' quell'ex Luthor. Mi ha fatto molto piacere questa interpretazione al punto che penso che quando rimarrò orfano della sesta stagione di Flash mi andrò a recuperare le stagioni di Supergirl che non ho visto. Nel frattempo nella storia riguardante la ricerca dell'anima di Oliver Queen, l'aiuto di John Constantine è fondamentale perché fortunatamente lui conosce un tizio e il tizio è Lucifer. Lo si era detto, lo si era annunciato, lo si era smentito dall'attore stesso che ha detto ma no, ma no, non parteciperò al crossover, ma si sa, è il diavolo, è logico che abbia mentito e siamo tutti molto contenti che l'attore abbia omesso questa verità, che abbia mentito perché ci ha regalato l'elemento sorpresa. Sono stato molto molto felice di questo elemento sorpresa che in un'era social è praticamente impossibile ottenere ma il diavolo ci è riuscito. C'è stato proprio un cammeo quasi gratuito ma è stato molto bello vedere John Constantine che è un personaggio che io adoro, specie nell'interpretazione dell'attore dell'Haroverse, che interagisce con il diavolo in persona. Lucifer dà una carta a John Constantine che gli permette di accedere al Purgatorio. Nel Purgatorio John Constantine, John Deagle e Mia Smoke vanno alla ricerca di Oliver Queen e diciamo che proprio perché, come ho detto negli altri video, gli episodi sono girati abbastanza in fretta, non è una ricerca molto lunga. Trovano subito l'anima di Oliver Queen che indossa ancora le vesti di Green Arrow, quindi ancora il cappuccio verde, tenetelo presente, e diciamo che in 4 e 4,8 riescono a fargli ricordare chi è e chi sono i suoi amici. Quando sta finalmente per accettare di tornare indietro nel suo corpo con i suoi amici, con sua figlia, appare, sempre nel Purgatorio, il suo vecchio amico poliziotto della prima stagione, Jim Corrigan. Jim Corrigan che è l'ospite terreno dell'entità Spectre o Spettro, che dir si voglia. Spettro ha un ruolo fondamentale nel fumetto Crisi sulle Terre infinite e anche nel fumetto l'alter ego corporeo di Spettro è Jim Corrigan, però dal momento che nella serie Arrow è una parte di poco rilievo, fondamentalmente cosa succede nel Purgatorio? Che Jim Corrigan, o meglio che lo Spettro, si trasferisce dall'anima di Jim Corrigan all'anima di Oliver Queen e, manco a farlo apposta, Spettro nei fumetti ha il cappuccio verde sulla testa, così come ce l'ha l'arro dell'arrovers, che a differenza invece dell'arro dei fumetti che ha il cappello alla Robin Hood, l'arro appunto dell'arrovers ha questo cappuccio verde. Quindi è quasi un passaggio fondamentale che Spettro entri nell'anima di Oliver Queen, che molto probabilmente a questo punto, qua si spiega anche tutta la ricerca, la morte di Oliver Queen nel primo episodio, la ricerca per ben due episodi della sua anima e del tentativo di farlo resuscitare, è dovuto al fatto che nel prossimo episodio che sarà proprio ambientato nella serie Arrow, Oliver Queen sicuramente tornerà come Spettro e magari salverà la situazione. Anche perché nel fumetto Crisi sulle Terre infinite, Arrow ha avuto un ruolo minimo, molto marginale, Spettro invece ha avuto un ruolo ben più importante, quindi mi sembra giusto dare al personaggio principale di tutto il cucuzzaro che è Arrow, un ruolo di rilievo che salvi l'universo. Torniamo e finiamo con la storia principale che è appunto Flash, Sisko Ramon come Vibe, Killer Frost e Nash come Paria o Paria che entrano in questo famigerato buco nel terreno. Entrano e trovano la fonte che sta generando il muro, il flusso di antimateria trovano questo nexus e c'è una specie di macchia rossa vibrante che sembra un vortice, sembra Tasmania rosso che sta vibrando su qualcosa e questa cosa che sta vibrando sta generando l'energia necessaria per far avanzare questo muro di antimateria. Non si capisce che cos'è, è intoccabile perché appunto sta andando a una velocità pazzesca e proprio, dato che il nostro protagonista Flash di velocità se ne intende, alla velocità Flash cerca di capire che cos'è questa cosa e scopre che questa cosa in realtà è una persona, è Flash di Terra 90. Flash di Terra 90 come abbiamo già detto anche nel video scorso, è Flash della serie tv anni 90 ovvero John Wesley Sheep che ha interpretato anche Henry Allen, il padre di Barry Allen della serie tv Flash, questa qui dell'Hurroverse, poi ha interpretato Jay Garrick di Terra 3 che è il primo Flash, quello anziano dei fumetti, che purtroppo grande assente in questo crossover non c'è, speravo ci fosse, come speravo ci fosse anche Kid Flash per esempio, dato che nel fumetto c'è Wally West, e ha interpretato anche o meglio ha ripreso il ruolo nell'ultimo crossover Hellsword di Barry Allen di Un'altra Terra, di Terra 90, riprendendo anche il suo costume che ha indossato nella serie tv anni 90. Questo Flash sta correndo su un tapirulant che ricorda molto il tapirulant cosmico dei fumetti, dove Flash appunto diciamo si allena e può fare cose. Questo tapirulant in questo caso alimenta questa macchina, Sisko Ramon con i poteri di Vibe riesce temporaneamente a toglierlo da questo tapirulant, ma questo innesca diciamo una misura di sicurezza che sta distruggendo il nucleo stesso, distruggendo il nucleo stesso il muro di antimateria smette di andare in ordine conseguenziale inizierà a far esplodere tutto contemporaneamente, quindi diciamo che hanno aggravato temporaneamente la situazione. Questo però dà il tempo ai nostri eroi di fare un piccolo brainstorming e cercare di capire come fermare del tutto questo muro. E anche qui dal nulla mostrano come Paria, come Paria, abbia il potere di comunque teleportare delle persone anche da altre terre. E guarda caso da Terra 73 porta Black Lighting, purtroppo lo porta all'ultimo secondo perché Terra 73 è già stata spazzata via dal muro di antimateria. Perché salva Black Lighting? Perché servono i suoi poteri elettrici per contenere il Nexus nel frattempo che i nostri eroi trovano una soluzione. È molto bello come anche la comparsa di Black Lighting per quanto improvvisa non sia fortuita, non sia casuale, abbia un senso nella trama. Fondamentalmente il Flash di Terra 90 che ha un po' più di esperienza nella correre a velocità supersonica spiega a Barry Allen che devono provare a far ruotare il tapirulant al contrario per cercare di fermare tutto questo. E è lì che Barry Allen di Terra 1 capisce che è questo il suo destino, che è qua, che è dove Flash svanirà nella crisi. Quindi si appresta a salutare tutti gli amici che lo hanno accompagnato fin dalla prima stagione per sacrificarsi, quindi per morire nella crisi sulle Terre infinite, come tra l'altro è avvenuto nel fumetto, ma all'ultimo minuto, questa cosa abbastanza telefonata, all'ultimo minuto Flash di Terra 90, diciamo, assorbe i suoi poteri di velocità per appunto essere più veloce lui stesso e per rallentare Barry e rimpedirgli di fare questo sacrificio e si sacrifica lui. Quindi è vero che Barry Allen svanisce nella crisi sulle Terre infinite, ma non è il Barry Allen di Terra 1, è il Barry Allen di Terra 90. E devo dire che qua, anche se comunque l'avevo intuita questa cosa, mi sono molto emozionato perché Barry Allen di Terra 90, Flash di Terra 90, è il Flash che io guardavo da bambino, lo guardavo quando avevo 5 anni, anche se è durato una sola stagione, mi era piaciuto tantissimo quel telefilm, addirittura ricordo che chiesi a mia madre di fare quello che era un proto cosplay che poi non abbiamo mai finito con questa stoffa bordeaux che sembrava feltro. Lo adoravo tantissimo. E vedere John Wesley Sheep nei panni di Barry Allen di Terra 90 sacrificarsi per il multiverso, sacrificarsi andando, sgretolandosi praticamente, con tanto di flashback in cui si mostra un giovane John Wesley Sheep che ha un momento tenero con Tina, la sua amica scienziata dello Starlab, mi ha proprio emozionato e questo mi è piaciuto molto. Quindi sono molto felice perché se non ci fosse stato quel telefilm, se non ci fosse stato quel Flash, io molto probabilmente non avrei nemmeno iniziato a seguire il telefilm Flash del 2014 e non sarei qui a recensire questo video, quindi c'è stato tutto questo trascinamento di emozioni e mi è piaciuto molto. Ma, ma non è finita qui purtroppo. È vero, il sacrificio di Flash è riuscito a impedire al muro di antimateria di andare avanti e distruggere Terra 1 che è rimasta l'unica Terra viva in questo momento. Ma purtroppo all'ultimo secondo arriva Harbinger, che in realtà non è Harbinger ma è l'antimonitor che ha posseduto Harbinger e in qualche modo riattiva questa ondata di antimateria che fa distruggere Terra 1 e sta per distruggere anche la Waverider. Cosa succede? Che Monitor contrasta l'antimonitor e mentre lo contrasta fa capire a Paria che deve fare qualcosa per salvare la situazione. Paria con i suoi poteri di teletrasporto allora cosa fa? Salva soltanto i sette campioni. Salva i sette campioni e li teletrasporta in una zona fuori dal tempo e dallo spazio che si è già vista in Legends of Tomorrow, a quanto mi è perso di capire. Vi ricordo, dato che l'ho detto solo all'inizio, che i sette campioni sono Batwoman, che è la campionessa del coraggio, Supergirl, che è la campionessa della speranza, Flash, che è il campione dell'amore, Sarah Lance, che è la campionessa del destino, Martian Manhunter, che è il campione dell'onore, Ryan Choi, che è il campione della umanità e Superman di Terra 96, che è il campione della verità. Peccato che quello stronzo di Lex Luthor, quel fantastico Lex Luthor che ho appena elogiato poco fa, abbia riscritto il libro del destino. E a un certo punto si nota che il Superman di Terra 96 non è Superman di Terra 96, ma cambia aspetto e diventa Lex Luthor. Quindi per salvare il multiverso c'è un piccolo problema. C'è un piccolo problema che è l'assenza di Superman e la presenza di Lex Luthor soprattutto. Quindi l'episodio finisce così, siamo tutti nella merda, perché potrebbe non risolversi la situazione grazie a questa mossa egoistica ennesima di Lex Luthor. E quindi cosa succederà? Noi non lo sappiamo perché c'è la pausa natalizia, c'è la pausa invernale, ragazzi miei. Quindi la prima parte di questo crossover si è conclusa con il terzo episodio e gli ultimi due episodi li vedremo dal 15 gennaio su Arrow e su Legends of Tomorrow. Quindi adesso staremo così, così, altro che calendario dell'avvento. Staremo con l'hype per vedere come finirà questo crossover. Devo dire che nel complesso ne sono molto contento, spero che finisca altrettanto bene. Ci sono state delle assenze che purtroppo non mi sono piaciute, ma è stato comunque un grossissimo evento televisivo. Come ho annunciato, come prevedo, probabilmente la situazione, l'assenza di Superman di Terra 96 verrà bilanciata dalla presenza di Spettro. Quindi tornerà Stephen Hammel nel ruolo di Spettro e salverà la situazione. Almeno questo è il mio pronostico. Vediamo se lo indovino. I numeri delle Terre li ho indovinate quasi tutti. Grazie, grazie. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo episodio. Dato che siamo in pausa natalizia fino agli ultimi due episodi, potete scrivere anche qui sotto cosa pensate del crossover fino ad ora in generale. Io aspetto i vostri commenti. Come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi auguro buone feste. Ci vediamo nei miei prossimi video, oppure, in alternativa, nei video di crisi sulle Terre infinite che si terranno a gennaio. Arrivederci.